Per quanto riguarda il discorso della CRIF, qui sarebbe la segnalazione in centrale rischi come posizione di sofferenza o proprio come cattivo pagatore e quant'altro, ci sono un po' di differenze, però sostanzialmente siamo sempre nell'ambito del merito creditizio. Per quanto riguarda queste posizioni, signori, io vi do questo consiglio. Allora, se volete partecipare a bandi e volete in qualche modo attingere a finanziamenti agevolati e quant'altro, dovete sapere che ci sono delle misure con le quali è possibile che passiate il colloquio valutativo, che il vostro progetto sia conforme alle aspettative, insomma tutto quanto sia bello e perfetto, e venite anche deliberati positivamente, ossia venite ammessi al beneficio dell'agevolazione, in generale tecnico si dice, qui sostanzialmente potete avere i soldi, ma nel momento in cui poi andate in banca è lì che succede il problema, perché dovete sapere che ci sono diverse dinamiche. Quella più nota è quella attraverso il quale, diciamo, l'ente che garantisce l'erogazione si appoggia a un istituto bancario per, diciamo, emettere poi fisicamente l'erogazione della valuta, del denaro, dei piccioli, insomma, sul vostro conto corrente. E in quel caso la banca potrebbe, anzi nella maggior parte dei casi è così, non dà il suo benestare all'operazione, se vogliamo utilizzare un termine poco tecnico, e sostanzialmente non vi fa erogare il denaro, quindi se ci sono queste posizioni che sono già conclamate, diciamo così, quindi di problematiche, incentrare i rischi, è inutile sostanzialmente che andate a presentare la domanda, perché purtroppo, insomma, se supera la prima fase, quella dell'ente valutatore, poi si blocca in banca. Se invece la situazione, diciamo, di difficoltà è sopravvenuta successivamente, cioè nel momento in cui si presenta la domanda, il problema non c'è, non è conclamato, diciamo così, ma voi sapete che ci sono delle problematiche, rappresentatele al vostro valutatore, insomma, al vostro tutor, al consulente che vi sta in qualche modo, seguendo la pratica, allo studio che avete scelto eventualmente per portarvi avanti la progettualità, perché sostanzialmente potrebbero esserci anche delle possibili soluzioni, nel caso in cui, insomma, questo sia possibile, cioè sono diverse, e quindi chiaramente potrebbe essere un qualcosa che viene sistemato prima ancora di dover arrivare poi con un esito positivo a non farsi erogare il denaro. Siccome questa è una problematica molto sentita, ho preferito, insomma, affrontarla così in prima battuta, di solito non si parla di cose negative, ma in realtà questa è una cosa positiva, nel senso che almeno noi viviamo a perdere tempo, cioè magari provate a risolvere prima, per esempio noi di SP Studio si abbiamo una procedura, si chiama procedura CRIF, con la quale sostanzialmente sottoponiamo a un esperto del nostro gruppo la posizione e proviamo, insomma, a capire se ci sono dei parametri o se ci sono dei margini di operatività per sanare la posizione, quindi di portarla in bonus. Quindi, detto questo, se ci sono problematiche, ditelo, se avete semplicemente il dubbio, levatevelo, sostanzialmente quindi approfondite. Ed è ragion per cui, per esempio, noi qui in SP Studios iniziamo la fase di progettazione con i nostri assistiti, nel momento in cui si candidano e noi in qualche modo li accettiamo per poterli seguire, e, diciamo, andiamo prima a verificare la posizione, quindi andiamo a fare prima l'analisi del merito creditizio che sostanzialmente diventa un elemento fondamentale e una documentazione necessaria insieme a quelli che sono gli altri, al sistema stregua, diciamo, di quelli che sono le altre caratteristiche che, diciamo, ed elementi che devono essere portati, come per esempio una firma digitale, la PEC, lo SPID, eccetera, oggi sono dei, diciamo, appunto, degli accessi, comunque dei dispositivi che non possono non essere presenti al momento della presentazione della domanda, perché chiaramente altrimenti non si può neanche accedere alla piattaforma e noi, allo stesso modo, insieme a queste tre cose, chiediamo anche CRIF. Così, nel momento in cui è tutto chiaro, almeno a questo aspetto, cominciamo a portarci allo step successivo. Non c'è nessun problema a riguardo, perché tutto quello che riguarda visure, anche la stessa creazione della CRIF, la PEC, eccetera, facciamo tutto in tempo reale, anche in una giornata, quindi si fa tutto in fretta, non si perde tempo, anzi, se ne risparmia dopo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.